Buongiorno FT Online, avvio pesante questa mattina per la borsa Fuzzimib in questo momento in calo del 2,02%, siamo a 18.110 punti circa, quindi molto vicini al livello di supporto critico di quota 18.050, al di sotto del quale la fase laterale dell'ultima seduta si dimostrerebbe una zona di distribuzione e quindi una fase preparatoria ad un nuovo allungo ribassista. Per tornare positivi, almeno di breve termine, sarebbe necessario il superamento almeno di a 18.300, in quel caso possibile un test dell'altra resistenza critica, quella dei 18.500 punti. In una situazione di mercato così delicata, solo i titoli più difensivi cercano di rimanere a contatto con la parità, abbiamo Enel questa mattina intorno ai 3,76€, quindi sostanzialmente sui livelli di chiusura di ieri. Il titolo ha disegnato nel corso delle ultime settimane effettivamente una zona di accumulo, quindi c'è di fatto un tentativo di resistere alle pressioni al ribasso, un supporto critico poco al di sopra dei 3,50€, ma anche una resistenza che i prezzi hanno toccato settimana scorsa a 3,82€ che per il momento non è stata superata, solo di sopra di area 3,82, diverebbe possibile un tentativo di correzione del recente ribasso con un primo obiettivo intorno a area 3,95€ dove transita la media mobile a 100 giorni e successivo sulla linea di tendenza che scende dai massimi di luglio e che in questo momento transita a 4,14€ circa. Nel breve sotto 3,65€ il rischio di ritorno nell'area critica di 3,50€, in caso di violazione anche di quei livelli è probabile il ritorno sui minimi di gennaio 2015 a 3,36€ circa. Per seguire con attenzione anche Terna, ieri ha toccato un nuovo record a 4,97€, questa mattina siamo poco al di sotto dei 4,95€, un quadro grafico ovviamente positivo, sappiamo che il trend di lungo termine del titolo è orientato in modo deciso al rialzo, nel corso delle ultime sedute c'è stata un'accelerazione che ha comportato l'avvicinamento da parte degli indicatori tecnici di uso più comune come il RSI a 14 sedute della zona di neutralità, quindi un trend tutto sommato che potrebbe ancora estendere prima di trovare delle resistenze importanti, è evidente però che essendo una zona da un punto di vista storico inesplorata, sarà difficile individuare quelli che sono dei possibili target per il rialzo, notiamo che c'è stata una fase laterale molto ben definita nel corso delle ultime settimane, che a questo punto può essere identificata come una figura di forma rettangolare e sappiamo che il rettangolo fornisce degli obiettivi al suo superamento che sono proporzionali all'ampiezza della figura stessa, quindi un obiettivo ipotizzabile per il rialzo di Terna è quello proprio dei 5,17 Euro dove si colloca il target del rettangolo, una resistenza intermedia sarà quella dei 5 Euro, una quota anche importante da un punto di vista psicologico, la discesa al di sotto del lato alto del rettangolo, quindi la violazione di 4,84 Euro fornirebbe invece un primo segnale di debolezza, anche se limitatamente al breve termine che potrebbe fare temere il terzo della linea di tendenza che sta dai minimi dello scorso agosto che passa a 4,58 Euro, quindi in questa fase sicuramente ancora positivi sul titolo con un target sopra i 5,15 Euro, ma in caso di scesa di sotto di 4,83 Euro ridurre l'esposizione per poi riproporlo eventualmente all'avvicinamento di 4,60 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento con il consueto commento giornaliero domani alla stessa ora, grazie.